L'anno che sta finendo si porta via i fiori recisi delle nostre speranze. Ormai lo abbiamo accettato. Questa pandemia non finirà presto e fare gli auguri di buon anno, pensando il futuro che ci aspetta non è facile e forse è anche un po' troppo impegnativo. Il sacco di Babbo Natale e la calza della Befana sembrano vasi di Pandora e qualsiasi previsione si rivela un azzardo. L'isolamento imposto dal virus dovrebbe ormai averci abituato alla riflessione e gli astri, gli oroscopi, ci dicono che il 2022 sarà un anno di prove che dovremmo affrontare lavorando sulla nostra interiorità. Questo sarà il modo più appropriato per considerare le condizioni avverse come occasione di crescita. La pandemia ha rimesso in causa il mondo e noi stessi e ha generato una confusione che potrà essere riportata all'ordine e all'equilibrio soltanto con una propensione al cambiamento profondamente sentita da ognuno di noi. Apprestiamoci dunque ad affrontare delle prove che potrebbero essere decisive per le nostre prospettive future. E se è vero che in generale dovremo misurarci con questioni finanziarie di varie entità, di fatti è l'economia che sarà particolarmente toccata, il mondo del lavoro, è altrettanto vero che ci troviamo di fronte a un anno nuovo che ci condurrà verso una importante rivoluzione personale. Negli ultimi tempi è venuta a mancare in noi la saggezza necessaria ad affrontare con obiettività i fattori esteriori che ci limitano. E ora è il momento di dare una svolta alla nostra esistenza. Ma per fare questo dobbiamo sicuramente disporre di una straordinaria forza di carattere e di un grande coraggio, ovviamente nel rispetto dei nostri limiti, perché come diceva Don Abbondio, il coraggio nessuno se lo può dare, se lo possiamo dare noi, ma con la nostra capacità di poi sviluppare la forza e il coraggio necessari per il cambiamento. Sicuramente saranno ancora mesi di metamorfosi che potranno rivelarsi produttivi solo se sapremo recuperare la forza morale e l'energia fisica per andare oltre gli ostacoli che oscurano la nostra mente. Quindi serviranno rigore, autodisciplina, per lasciarci alle spalle i pensieri, le parole e le azioni negative che hanno trovato spazio nel passato e che hanno segnato questi ultimi anni di amarezza. La pandemia non ci ha fatto diventare più amorevoli, sicuramente ci ha fatto diventare più nervosi, forse più critici, forse più aggressivi. Ebbene adesso è il momento di riorganizzarci, è il momento di riportare in noi l'armonia e aprire i nostri cuori verso orizzonti sereni. È il momento di amare noi stessi al di sopra di ogni instabilità, di lenire le nostre pene, di vincere la tristezza, i sensi di colpa e di inadeguatezza. È il momento di trasformare il sentimento di impotenza in azione creatrice di benessere per noi e per gli altri. In pratica si tratterà di fare delle scelte, anche dolorose, perché fare delle scelte radicali è sempre una bella impresa, è un bel impegno. Ma queste scelte, se saranno fatte bene, ci traghetteranno da una debolezza troppo a lungo vissuta. Siamo stati deboli quando ci siamo abbandonati alla nostra disperazione e alla nostra solitudine. quindi troppo a lungo vissuta questa debolezza. Ma se noi troveremo la forza per reagire, allora raggiungeremo una consapevolezza liberatoria che ci porterà a riconoscere e a valorizzare le nostre qualità, ci porterà a riconoscere l'importanza di questa nostra preziosa vita umana. l'introspezione, la riflessione, la capacità di prendere decisioni drastiche ma salutari, questi tre fattori saranno le chiavi del nostro cambiamento e forse genereranno una qualche crisi, ma daranno sicuramente buoni frutti se noi sapremo cambiare e sapremo affrontare il futuro con una maggiore decisione e una maggiore libertà. Le persone più fragili e sensibili potrebbero anche avere piccoli disturbi di somatizzazione, perché è chiaro che quando uno deve fare dei cambiamenti a un certo punto si trova un po' destabilizzato, ma anche se proveremo qualche disagio, l'obiettivo è importante e vale la pena di provarci. Essere compassionevoli verso noi stessi vi sembra egoistico? Qualcuno potrebbe dirlo, ma dobbiamo tenere presente che sviluppando la compassione verso noi stessi e facendola diventare la nostra forza, saremo sicuramente in grado di essere compassionevoli verso chi questa forza non ha ancora saputo farla emergere in sé. Quindi riusciremo a comprendere meglio la sofferenza dell'altro e riusciremo anche, se l'abbiamo fatto noi che siamo usciti da questi condizionamenti, riusciremo anche ad aiutare l'altro a fare lo stesso. Normalmente a fine anno si fa un bilancio degli avvenimenti che hanno caratterizzato i 12 mesi appena trascorsi e possiamo dire che per alcuni è andata bene, ma per altri, e sono la maggioranza, i conti non tornano. Dunque suggerirei a tutti di utilizzare almeno uno di questi giorni di vacanza per riflettere su cosa non è andato. Ma anziché perdere tempo vittimizzandoci e cercando le colpe altrui dovremmo concentrarci su cosa abbiamo sbagliato, su dove abbiamo sbagliato, sulle cause dei nostri errori e sulle condizioni che li hanno generati. Facendo seriamente questa analisi scopriremo che molti aspetti delle circostanze sfavorevoli sono dovuti proprio a quelle nostre tendenze. Le tendenze che è venuto il momento di eliminare. Le tendenze che dobbiamo eliminare insieme a tutto quello che per fragilità abbiamo sopportato e ora non vogliamo più. Infatti c'è qualcosa che ci porta a ripetere gli stessi errori ed è su questo che bisogna lavorare. Le tendenze che ci portano a ripetere gli stessi errori. Dobbiamo eliminare questa nostra facilità di abbandonarci alle circostanze in maniera superficiale. Dobbiamo essere più presenti e soprattutto dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze che le nostre azioni possono produrre. ma anche in positivo perché se noi sappiamo approfittare delle possibilità che quest'anno ci offrirà di affrontare cambiamenti importanti allora ecco che a un certo punto anche la sicurezza di andare incontro alla vita diventa una tendenza. La capacità di essere compassionevoli diventa una tendenza. Chiuderei facendo una riflessione. Noi diciamo tutti che la pandemia ha cambiato il nostro modo di vivere e soprattutto che il mondo non sarà più lo stesso. Ma in questa visione la nostra persona non compare mai. Il mondo di cui parliamo è fuori di noi e il cambiamento che incombe su di noi è un fenomeno che noi subiamo. Noi diciamo il mondo cambia, anche noi cambiamo. Siamo trascinati dalle circostanze che ci obbligano a fare anche cose che noi non saremmo disponibili a fare diversamente. Ebbene, nel 2022 dovremo metterci in gioco personalmente e responsabilmente. E questo è il senso della parola d'ordine che io normalmente a fine anno trasmetto per l'anno nuovo. La parola d'ordine per il 2022 è abbandona le lacrime e mettiti in gioco.